Assaggiamo la cotoletta di cavolo deliziosa. Collavato e asciugato il cavolfiore, sbattiamo le uova con sale e pepe. Aggiungiamo il prezzemolo. Facciamo a fette il cavolo. Li facciamo spesse almeno di un centimetro. Ho fatto delle fette alte circa un centimetro. Infariniamo le fette di cavolo. Ora le passiamo nell'uovo. E nel pangrattato. Mettiamole in una teglia con carta forno. Mettiamo un filo di olio. Inforniamo il cavolo. Forno ventilato, preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Il nostro cavolo è pronto. Assaggiamo la cotoletta di cavolo, deliziosa. Assaggiamo la cotoletta di cavolo.